In due anni e mezzo sono caduti tre assessori. Due consiglieri comunali, Barone e Falcione, hanno lasciato la maggioranza. Volt e parte del PD disertano la sua conferenza. Insomma, il sindaco non avrebbe più numeri per governare. Per di più, anche l'opinione pubblica è ormai contro di lui, avendo raccolto oltre 700 firme, per sconfessare il suo progetto sulla prefettura. Questo in sintesi è la parere dell'opposizione comunale a Palazzo San Francesco, che ha incontrato la stampa per chiedere le dimissioni del primo cittadino, la cui azione di governo sarebbe oltretutto paralizzata dalle beghe interne al PD. Innanzitutto ormai è rimasto da solo. E questo è evidente, perché dopo aver fatto, è un record, penso che nel giro di tre anni ha fatto fuori tre assessori, più due suoi consiglieri l'hanno abbandonato. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Al di là dei costi della politica, perché, come ho già detto in conferenza stampa, Isernia è l'unico capoluogo di provincia che ha, con meno di 20.000 abitanti, nove assessori. Se pensate, il Campobasso ne ha sette. Napoli ne ha nove, Roma dieci, Milano undici. Già questo fa pensare. Quello che è successo con la vice sindaca, come piace a lei, è di una gravità mai vista. Il sindaco, come già rappresentato dalla stessa Vinci, ne era a conoscenza, perché erano già diversi mesi che non si occupava più dei problemi degli Isernini, ma si occupava, tra l'altro stipendiata dal comune di Isernia, si occupava di altri problemi, con l'augurio che ora è andata via. Noi gli auguriamo, come ho detto anche prima in conferenza stampa, di risolvere tutti i problemi del mondo, ma Isernia ha bisogno di gente che sia Isernia, che ci tenga alla propria città e che faccia di tutto in maniera di risolvere i problemi. Per giunta al momento ci sarebbe un problema relativo all'Equoterosa. Dopo le dimissioni della Vinci, Laurelli dovrebbe ricevere l'incarico lunedì. Attualmente al sindaco Castrataro restano in giunta soltanto due donne e su otto assessori chiaramente non è rispettata attualmente la quota rosa, quindi lui inevitabilmente dovrà cambiare qualcosa, ma soprattutto sicuramente lo farà per mantenersi a galla ancora un po'. D'altra parte questo è il modus operandi che ha avuto per tre anni, noi lo denunciamo da tre anni e stiamo ricevendo conferme con le dimissioni del vice sindaco, di fatto abbiamo avuto l'ennesima conferma. Lei stessa è andata via sbattendo la porta, denunciando che all'interno di questa amministrazione c'è del marcio e il sindaco Castrataro ha di fatto negato tutto seraficamente, come sempre spostando qualche pedina e dicendo che si va avanti e si lavora. Si lavora su cosa? Non lo abbiamo ancora capito, come vorrà questa maggioranza mantenere l'assetto politico al suo interno? Non è chiaro, bisognerebbe capire il PD che è traino di questa amministrazione cosa intenderà fare, bisogna capire ciò che resta del distrutto gruppo Volt che doveva risollevare i Sernia col ritorno dei giovani e il suo capobranco se n'è andata di nuovo anche lei e bisogna vedere quindi Castrataro davvero adesso come penserà di andare avanti.